Continuo a ribadire in apertura la necessità di prendere una posizione chiara in merito all'ingiusta aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina e auspicare che il conflitto in atto sulla striscia di Gaza possa essere in qualche modo contenuto limitando il numero delle vittime innocenti. Passando dall'ambito militare a quello economico e rimanendo in tema di minacce per la libertà individuale vorrei introdurre l'argomento del nazionalismo economico e del protezionismo verde che collaborano per costruire un futuro grigio, se permettete il gioco di parole cromatico. Quello che la rivista The Economist ha denominato Homeland Economics e che io tradurrei come nazionalismo economico costituisce una risposta ai rischi per la sicurezza nazionale derivanti da sciocchi inattesi come una pandemia o una crisi finanziaria globale e alla volontà di proteggersi riducendo la dipendenza delle catene di approvvigionamento e distribuzione internazionale. L'invasione dell'Ucraina ha aggiunto i rischi politici e strettamente militari che hanno messo ulteriormente in discussione i vantaggi di un sistema basato sulla libera circolazione di cittadini e merci. Ultimo, ma non per importanza, il cambiamento climatico solleva questioni di coordinamento tra stati e aziende liberi e cittadini che non sembra gestibile con meccanismi puramente privatistici. Il risultato di questi processi è quindi quel protezionismo verde, testimoniato dall'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti che giustifica con argomenti legati alla sicurezza nazionale e al controllo il sussidio di imprese iniziative domestiche ai danni del resto del mondo. Questa rubrica conferma il supporto al libero mercato tanto quanto a quello della libertà individuale, caratteristiche che spesso si presentano come due facce della stessa medaglia e nei prossimi episodi proverai a illustrare in maggior dettaglio i limiti e le controindicazioni di questa ingerenza eccessiva dello Stato nell'economia.